Una buona notizia per la Locride. La famosa festa di Portosalvo di Siderno, ben conosciuta in tutta la provincia ma anche nella regione, sarà alla Fiera dell'Artigianato di Milano che è in programma dal prossimo 3 al 10 dicembre. Come si sa per Milano è un periodo particolare poiché precede la festa di Sant'Ambrogio proprio il 7 dicembre col tradizionale mercatino. Uno stand sarà allestito per rappresentare Siderno e la sua fiera per la giunta comunale rappresenta un importante vetrina nazionale e internazionale per fare anche da attrattore turistico alla città. Come scrive il sindaco Maria Teresa Fragomeni diventa un'occasione importante per promuovere i beni culturali, artistici e culinari ma anche quelli paesaggistici favorendone la conoscenza a un ampio mercato di portata chiaramente internazionale. La Fiera dell'Artigianato, lo ricordiamo, si svolgerà a Rò però parteciperà una delegazione di una decina di amministratori comunali sidernesi. Se necessita si può ricordare il percorso storico della famosa fiera che vanta una storia lunga oltre 204 anni e nello scorso 2019 fu celebrato il bicentenario. Già da quell'epoca Siderno veniva considerato un polo commerciale con un importante pontile nel quale attraccavano navi provenienti dalla costa amalfitana che venivano a rifornire le attività commerciali di ogni tipo di prodotto così la vocazione commerciale della città che negli anni poi si è sviluppata portata avanti da quella che oggi è una semplice fiera che attrae persone provenienti da tutta la provincia ma che riveste un significato storico importante.